L'amministrazione di Primio sopravvieva al Ferragosto, accordo raggiunto a Chieti con la componente ribelle della maggioranza, quella di Forza Italia. Oggi Chieti raggiunge un obiettivo che è quello di riconquistare una maggioranza numerica, non l'abbiamo mai persa sotto il profilo del consenso, abbiamo dovuto sottostare a qualche litania della politica, ma il senso di responsabilità, la voglia di costruire, la voglia di fare soprattutto il bene della città hanno prevalso su tutto. Il partito di Berlusconi si era schierato contro l'assessore al commercio Carla Di Biase, in quanto ha abbandonato gli azzurri per aderire a Fratelli d'Italia. Così era giunto l'out-out al sindaco, o si toglie la delega alla Di Biase oppure si torna al voto. Dopo settimane di trattative e di spettacoli grotteschi in Consiglio Comunale, Di Primio ha ceduto al rimpasto di deleghe. Il vice sindaco, Giuseppe Giampietro, assumerà il ruolo di assessore al commercio e viceversa la Di Biase avrà la delega all'istruzione pubblica. Questa mattina mi sono venute in mente una serie di metafore di film, tanto rumore per nulla, ma con tutto l'affetto per Marco Lingiullo, non è bello come Kenyon Reeves o Dancer Washington, Tomaside Lampedusa, tutto cambi perché non lo cambi. Io vorrei semplicemente dire una cosa, che a volte nei giochi di forza qualcuno dice che vuole vincere e qualcun altro che ha perso. Anche la sconfitta ha un valore, ed ha il valore che nasce nel ricreare un'identità e un gruppo identitario, ed è quello che è nato da questa vicenda. Sono 12 consiglieri di maggioranza che si sono ricompattati tra di loro con la maggioranza degli assessori comunali. E quindi, oltre a ringraziare l'assessore Giampiero che ha messo a disposizione le sue delega dopo nove anni e mezzo di lavoro, credo che questo sia il punto di partenza per un gran finale. Raggiunto l'accordo, i consiglieri di Forza Italia si sono presentati soddisfatti in aula e hanno votato il bilancio, determinandone l'approvazione con 19 voti favorevoli contro i 12 dell'opposizione. Questo a dimostrazione di come l'approvazione del bilancio, rimandata per settimane, non aveva nulla a che fare con il bilancio in sé, con le problematiche tecniche emerse dai conti del comune teatino. Al contrario, la faccenda era del tutto politica, all'interno dei giochi di potere e nelle dinamiche dei partiti. Durante il consiglio, Di Primio ha parlato di un vero e proprio ricatto. Avrei preferito non essere costretto con la forza, ha dichiarato il sindaco, bisogna convincermi con la ragionevolezza, non con i ricatti. Umberto Di Primio, quindi, che governa Chieti da lontano 29 marzo 2010, continuerà ad amministrare il capoluogo teatino fino al 2020, poiché infatti, questo è il suo secondo mandato, il sindaco, ormai ex forzista, non potrà più ricandidarsi. E allo scoccare delle ferie di Ferragosto, l'opposizione attacca, si è finalmente chiuso un periodo vergognoso per la città di Chieti e avvertono, da oggi faremo sentire il fiato sul collo a Di Primio e controlleremo ogni singola mossa dell'amministrazione. La voglia di rimanere incollate alla poltrona fino a maggio 2020 è stata più forte di qualsiasi lite. A dispetto di Chieti, delle tematiche amministrative che erano state poste, delle questioni politiche che di fatto sono rimaste irrisolte, tranne uno scambio di deleghe, nulla di fatto, tre mesi persi per Chieti, per la sua comunità, nessuna soluzione ai problemi e si riparte con un sindaco magari che ha riacquistato la parola, una maggioranza ancora divisa e sicuramente una città che non vede una prospettiva, non solo fino a maggio 2020, ma soprattutto per il 2025, il 2030, se non ci sarà un cambiamento netto nei volti, nelle idee, nel modo di pensare e anche nelle candidature che ci saranno alle prossime amministrative.